Boom di nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo. Sono 354 quelli accertati nelle ultime ore. È il dato più alto degli ultimi sette mesi e in particolare dallo scorso 4 aprile, quando i nuovi casi furono 438. Si registrano due decessi recenti, così il bilancio delle vittime sale a 2.573. Gli attualmente positivi tornano sopra quota 3.000 dopo 5 mesi e sono ora 3.229. Continuano ad aumentare gradualmente i ricoveri che per la prima volta ad inizio giugno tornano sopra quota 100, passando dai 97 di ieri ai 101 di oggi. In particolare 90 pazienti, più 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 11 meno 1 sono in terapia intensiva, mentre gli altri 3.128 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 66 rispetto alla giornata di ieri. Dei nuovi casi accertati in Abruzzo, 77 sono residenti domiciliati in provincia dell'Aquila, 41 in provincia di Chieti, 109 in quella di Pescara e 115 in provincia di Teramo. Alla luce degli ultimi dati, l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti aumenta di 16 punti e schizza a 96. Restano contenuti gli indicatori sui ricoveri. Il tasso di occupazione dei posti letto sale al 7% per l'area medica e scende al 6% a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 15 e del 10%. I parametri dunque restano da zona bianca. Intanto con l'accelerazione sulla terza dose, che alla luce della nuova circolare del commissario Paolo Figliuolo del 1 dicembre potrà essere somministrata a tutti gli over 40, la ASL di Teramo ha predisposto un allargamento della rete dei centri vaccinali. Per non caricare eccessivamente l'hub di Parco della Scienza a Teramo, attivo già ad ottobre insieme agli SPOC in funzione dei quattro ospedali di Teramo, Atri, Giulianova e Santomero, la ASL ne aprirà altri. Un primo centro SPOC di questo tipo è già in funzione da venerdiscorso a Montefino, gestito dai medici di base della Valfino. Ora, dopo interlocuzioni con i medici di medicina generale, aprirà un centro SPOC a Roseto degli Abruzzi nel camping Lido d'Abruzzo. Si sta valutando l'apertura di un altro centro nell'ex dialisi delle UCCP di Villa Rosa. Intenzione della direzione strategica è dotare di ulteriori centri della provincia di Teramo, sempre in accordo con i medici di medicina generale e i sindaci.